e bella a tutti ragazzi e ben ritrovati sul mio canale per un nuovo video riguardante battlefield 5 in questo video ragazzi vedrete all'opera me ed altri miei compagni di squadra in un'azione di una squadriglia di blenheim quindi due bombardieri inglesi presenti nella beta di battlefield 5 purtroppo per problemi tecnici shadow plane non ha registrato la mia voce quindi non mi sentirete parlare però personalmente siccome il video e il gioco di squadra l'azione è veramente bella mi sembrava uno spreco non farci un video proprio di questa bellissima azione quindi ragazzi purtroppo questa volta ho avuto questo problema come sempre ragazzi vi chiedo di condividere il mio video con i vostri amici se volete aiutarmi a farmi conoscere il mondo youtube di lasciare un bel mi piace se il video vi è piaciuto e come sempre lasciare un commento qui sotto con le vostre idee come come sempre mi fa molto piacere sentire le vostre opinioni e come sempre ragazzi anche di scrivere il mio canale se siete nuovi e volete continuare a seguirmi nel mondo di battlefield 5 quindi vi lascio ora al video bella ragazzi e bella lì qua ma ragazzi bravo aspetta eh ma non ho vinto ci succede cazzo ma ce la faccio vero ragazzi è passato davanti non veloce ma mi posso muovere wow è nuova sta roba ma non c'era su ma matte l'hanno aggiunto la cosa che quando ti stai schiantando poi io no vabbè poi hanno aggiunto un'animazione di due secondi così da farti buoni e non ti stai schiantando si stai schiantando hai a cazzo ma si qua si mettono l'uomo e sono sopra lì che ho fatto saltare tutte le mire è lì al sopra l'angolino cazzo di solito 82 dittime sta sponando tutti mi sta chiamando io che mi ero so quando mi chiamano quando sono in partita no arrivo minchia ragazzi sono tutti da voi sono tutti da voi sono morti sai cioè mi hanno tirato 5.000 in azione una tripla così proprio ah se che è bombardato comunque raga ma scusa ma perchè ci ha fatto un'unica squadra così chiamiamo il bulbo un bulbo io comunque mangio un biscotto no occhio che biscotti inserlo che due rimanebbero fuori proprio e dove sta a parte sotto eccolo vi vedo sto cercando di arrivare ragazzi sono con questo e sopra io mi so svegliato su una stella mia grata fumogena posto qua dalla gente del pago ad assenzi non mi morite non mi morite siamo seri raga ma dove cazzo va il mirino quando mette il bifo de si può fare una verata un po' così no no sono morto perchè il mirino se ne andato in culonia figa ma gli ho fatto passaggio gli ho fatto un po' di vita anche io bella per quello bella ragazzo bella ma perchè non mi fai andare ma cos'è l'ordine su e l'ordine su e l'ordine su ti ho fatto fare una raga ma il che si dice il porto davanti del mitraiere è buggeato ma tutto bella e che che non puoi sono io bombare ah si siamo dov'è la gente raga ditemi dove devo bombardare non lo so succede va bene mi si ricarica le munizioni del del devi andare per il posto ah sotto si bella perchè io con la gipetta è la moto cosa stasera mai confondi eh si ma quanto ma 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 c c d non è che devo scendere santi ma vabbè 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 che sta guidando quel mi sono vabbè ho fatto ma l'uomo mi sono sopravvivi con l'animazione e si è morto no con l'animazione mi ha sbattato all'orto ma per resistere per la destra ma per la piccolo cinese dove siete dove siete dove siete l'animazione vabbè vabbè l'abbandonato sdg eh eh lì davanti niti nella casa distrutta a fianco a quella gialla c'è uno con l'Stg davanti alla casa distrutta quella gialla no a fianco a quella gialla c'è la casa distrutta con un brote però con lo suami lo suami ma perchè c'è lo scumplizer qua così a caso sono stati messo dov'è ma non c'è l'animazione che c'è l'animazione che c'è c'è l'animazione che c'è giro sinistra ma che sarà un po' aggressivo però mi devo grattare vai 8 aia 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 ma dove ma ancora era svegliato appena sono passato sicilato mi raccomando da tu c'è la mamma puttana cosa ti devo dire finisi eh mi definisco semo la gente spara così a caso spammando ti prende non dico che non l'hanno detto spammato sk d siamo su dain Sì, sì, vi sto in coda. Ah bella, 66. Suomi, mi divertono. Siamo su Dyke. Eccoli, eccoli. No, cosa qui ci sta sparando? Ragazzi, il BF109 e poi gli puoi mettere la modifica... Ragazzi, c'è uno scudo che ha fatto un vero. Ragazzi, ma lo sapevate che al BF poi gli puoi mettere la modifica... La modifica cazzacare. Ah, quello col cannone gigantesco. Il Gewehr 43 com'è? Siamo troppo fichi. Sì, è vero, io so. Bello. Ma raga, raga, ma c'è... Ma voglio la cinematica, voglio. Oh mio Dio, ma che cosa è ipica. Dai, vieni in coda, andiamo a bombardare. Ragazzi, io voglio lo studio che fa, è la sirena genico tutto l'uomo. Com'è che si fa a fare la sirena genico? Basta che va in picchiata. A bello. E poi si cagano sotto. Perché avevano messo così basso l'appoggiamento che pizza. Dell'ordine su di proprio. Controendico. Ci sono ieri? Ma però, dell'ordine su di. Sì. Ma per la sirena. Arriva. Madonna. Oddio. Due. Oh! Di che non c'è andare, c'è pure un carro. Ah, bella. Ah, bella, lo sento nel culo il carro. Una kill ha fatto. Cosa è che G42? Ok, io puoi darmi una mano? Giro. Opera dei 571 metri. Opera. Sì. Così. Opera, fine. Opera, opera. Opera. Opera qui. Voglio provare le G42. Ma no, medium scoop. Non mi colpire, non mi colpire. No, medium scoop. Ho sentito? Medium scoop. Perfetto. Haga, dopo voglio io la. Vado a rifornirmi. Eh, anch'io. No, io ci ho fatto. Boh, forse non lo so. Adesso arriva già nella squadra. Perché trovo, io sono qua per la tro. Sì, boh, Haga, io finisco questa. Ah, c'è. Allora c'è. Sì, boh, c'è. Sì, boh, c'è. Sì, boh, c'è. Sì, boh, c'è. E che giovane, è stato peggiorato come Mary Pocce. Sì, boh, c'è. Oddio, ma non andai ritrovaccio. Oddio, sto andando lì, dintro. Che non è vero. Sì, ah. Sì, ah. Oddio, non stai, c'è. Oddio, stai, c'è. Oddio, stai, c'è. No, stai, c'è, c'è. No, 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 no. Aspetta, teni che sei dell'altra squadra. Sì. Ah, cosa? È una squadra di Papero. Oh, ok, allora. Cosa, è una brutta squadra. Stiamo... Ah, io! Papero, non puoi chiamare niente, no. Se canaliariamo tutto il tempo, il punto è quello che abbiamo. c'è cosa non era l'aver stato il carro devo fare pure il posto il croco da non ho capito che c'è il calcio lancia fiamme attaccate le tracce chiamo io ma se non è niente se proprio tutto scuola di un posto per acertare i temi doveva almeno un po' di gente c'è ok io ho chiamato il troppo dell'apposta solo prendo io anche il progetto e poi anche sponso di te che devo usare no il mio microfono è come ciò che si è buttato sparafiamme ma cosa c'è a dito? c'è un arrivolo il protestore è stato solo tu a meno che non faccia votivo vatte di 4 il senso allora come che la pista la parola che costruisce un altro piano il terreno se lo porti no che chi ha chiesto la vita costruzzi eccociato con la pistola e' un'altra e' un'altra e' quello che vuoi sopra con la pistola io ho esattato con la pistola bella per lui tu puoi usare il fuoco si si sperano c'è uno quattro ma se si tracassino figli per cazzo ma oltre le cae perché scende scelte sono morto sono sceso per colpa di chi? ma non lo vedevo di chi esci da quel camion che ti spara anch'io brutto strozzo ma dove cazzo sei? sono e' dove sei piccato? ti vedevo un cinese di merda il tasto ma il cazzo è andato c'è bello c'era una di chi non lo vedeva c'è ma perchè mi ha fatto riscendere? e' dietro vedevo tu hai la visione più alta ma c'è un giro tondo perchè mi fa uscire se e' in e' in nike no nike da infastidio siamo seri figa no aiuto venga 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 vedere ora venga assicurata raga ma perchè si deve, ma noi siamo america, siamo inglesi perchè siamo, ma figa che batti m***a non mi fai entrare dentro al c***o oddio ho il tuo serbatoio e ti ho fatto spio sparafiamma in casoli ma io figa mi fai entrare dai c***o 1,2 vabbè chi se ne frega godiamoci lo spazio, paracadute ho qualcuno in coda quanto figa quando scende l'u1 oh bella due di filo ratio maronna ciao a tutti ciao a tutti Grazie a tutti.